Musica Benvenuti su Cassi e Giamo sui videogiochi Oggi per voi Alpha Genji Gamer E continueremo con il quattordicissimo episodio dell'Nazume Eleven Spero di aver sbagliato E continuiamo dal punto dove ci siamo interrotti Vediamo un po' il volume del gioco Mark devi stare attento Andiamo, via, non c'è nulla da vedere Non bisogna sottovalidare l'Nazume Arriverà il giorno in cui giocaremo contro Vi aspettiamo, Inazume Capitolo 4 In piedi capitano Adesso vedo se l'Nazume dà la spazio di parlare, no? Che devo dire un po' di cose Beh, parleremo dopo Chi è quella donna? È la signorina Schiller Allenato la Raymond ai tempi dell'Alius Mi sembrava di aver sentito che si fosse ritirata dal calcio Tu sei Dvalin dell'Alius E c'è anche King della Royal Non faccio più parte dell'Alius E ho anche cambiato il mio nome Mi chiamo David Quagmager C'è Ce l'hai proprio con me, eh? Sono il capitano della Neo Japan Neo Japan Tutto è nato quando un giorno è venuto da me Dicendomi che non era stato scelto Per favore mi faccia diventare più forte Voglio sfidare il mondo Io non sapevo che fare Ma il calcio era la mia vita E volevo ricominciare ad allenare Ho capito che cosa provi Vieni con me Ma la musica di sottofondo Non sembra quella Di chi vuole seminare O no? Vabbè, mi stavo sbagliando Va bene In Azuma Japan Vi sfidiamo La squadra che vincerà Giocherà nel Football Frontier International Non dimenticherò mai Il dolore di quel giorno Anche noi abbiamo il diritto Di vedere Se siamo forti Allora Mr. Travis Accetto la sfida? Va bene Ci sto Mister Grazie La partita si giocherà Domani è qui Vorrei sapere perché il mister è accettato Che bello Domani giocheremo contro la Neo Japan Sarà una partita molto difficile Abbiamo bisogno di un elemento speciale Daremo il nostro meglio Sono un po' preoccupata per la partita Giocheremo molto bene Grazie alla loro allenatrice Non ho capito Non ho capito quello che ho detto Vabbè Dove sta andando Asher? Ah che... Sì Hey Asher Capitano Inizia l'anamento speciale Sto arrivando Todd Parlo con Silvia Quando vuoi fare l'anamento speciale Facciamo questo elemento speciale Facciamo questo elemento speciale Va bene Comunque Ho avuto un po' Non ho caricato Tutto Per esempio oggi Che è il 21 Ho caricato FIFA Non ho caricato Minecraft Oh mi sto imbrogliendo le parole Inazuma Perché non ho potuto registrare Uno Ho due Ho due mouse Di cui Tutte e due si sono rotti Uno un tasto destro L'altro un tasto sinistro E un altro Mentre stavo scaricando un gioco Il computer Vi va a mancare la corrente Proprio Mentre stavo scaricando E quindi ha danneggiato un po' la presa E quindi ho dovuto cambiare un po' tutto Quindi ho un po' di sfortuna In questo momento Minecraft Non lo posso fare ancora Fin quando Non ho il mouse Minazuma posso giocare col tasto sinistro Invece a Minecraft no Va bene Continuiamo Il pugno di giustizia di Marche È fortissimo A malapena Ardex Lo supera Che grande portiere Il capitano non ha rivali Cercherò di diventare Bravo quanto lui Vabbè Bravo a dare Questo è lo spirito giusto Però sto migliorando Sto già migliorando Devo continuare così Devi continuare Perché sto sbagliando a leggere Wow Jordan Che tiro Grazie È solo questo che sai fare? Un tiro lento come questo Non ci farà segnare Caleb Hai ragione Devo migliorare Servono le parole di Caleb Stonewall Ma domani non perderò Oh sì Vinceremo Ma questo numero è di Dove l'hai visto? Ok L'ho visto subito Mark Mr. Eman ha detto di andare Nel campo del centro Ha anche aggiunto Che c'è un'emergenza Vacci subito Emergenza Vabbè Nel campo del centro Quei due Li ho visti spesso Andare nel campo del centro Sai cosa significa? Andiamoci subito Mai A negozio del campo? Vabbè Sì Ma è bella questa traduzione Mappa Centro Ci vediamo dopo Eccoci qua Ritornati Sta laggando Due palloni Due palloni E mezzo Cosa ci sarà? Dannazione Non riesco a segnare Capitano Capitano Sei qui Il Mr. Ivan Mi ha chiesto di venire Ha detto che è urgente Vuol dire che tu hai il man Fategli la mente speciale qui Ehi aspetta Facciamo una mente speciale Insieme? Capitano Lasciami in pace Per favore Ma ti diverti quando giochi a calcio? Eh? Intendo il calcio vero È molto divertente Ah vabbè Giocare insieme con le campagne Mi capisci? Ti insegno io a divertirti Vorrei utilizzare i tuoi piedi per il calcio Hai mai provato? È molto divertente È pure tutto molto divertente Ti aiutero Grazie Ho capito Aspettare Un po' di sbagli Beh Questo è lo spirit Andiamoci Un attimo Che mi preparo Andiamoci Comunque Mi sono dimenticato di dirvi anche Che non caricano molto spesso più video In questo periodo Perché maggio Come sapete È il periodo degli studenti E io devo recuperare Due o tre materie Per non avere il dipito Perché onestamente Giugno e luglio a scuola Non me li voglio fare Perché Cioè questo è un momento Un po' Diciamo Confusionale Va bene Ritorniamo Hai preso il mio tiro Che non era diretto in porta Vedi Funziona Dai Prova a tirare Un altro spadiglio Bah Non ci riuscirò mai Però Si è andato Via Perché si è andato via Dall'anamento speciale Di avere fiducia in te stesso Farò gol Wow Cosa Che potenza Accidenzi Che potenza Asher Hai fatto un tiro potentissimo Che tiro Che ho un ti Che tiro Che ho un tiro Che ho un tiro Che ho un tiro Vabbè Potentissimo Traduzione Non dimenticherò mai Questa sensazione Di nuovo Quei ragazzi Che è andato via Che gioco Ho una gran fame Anche io Andiamo Io voglio Rimanere ancora qui Capitano Non direi nulla Del nostro Un'anamento speciale Come vuoi tu Questo calcio E divertimento Puro Mark Evans Ci si rivede Asher Asher disponibile Vuoi farlo tornare Nella squadra Che potenza Che potenza Il giorno seguente. Ormai la partita sta per iniziare. Io ho fiducia dell'Inazuma e del capitano. Mark, sei pronto per giocare? Sei stato tu a dirmi che il calcio è un divertimento. Oggi non possiamo perdere. Non dimenticarti mai che è il calcio è divertente. Mark Evans, questa sarà una partita a silenzio unico per noi. Chiamami quando vuoi giocare. Va bene, purtroppo devo chiudere qui l'episodio lasciandovi un po' di suspense. Perché ho anche problemi con nessuno. Ho detto è un partito un po' brutto. Ma se lo risolverà, appena finisce questo maggio, diciamo, mancano altri 9 giorni, caricherò video, farò un po' più video, quindi avete un attimo di pazienza. Ah, e voglio ringraziare i 34. Dai, iscrivetevi, ne manca una 35. E forza, un amico, un fratello minore, un padre, dai, iscrivetevi. Con questo ho detto tutto. Ciao da Affa Giangi Gamer. Ciao! Ciao!